E a proposito di riflettere, Valentina, parliamo di un tema importante. Siamo abituati a fronteggiare il bullismo tra i banchi di scuola quando si nasconde subdolamente tra le chat degli adolescenti. Ma in questi mesi estivi, in cui il corpo è più esposto ed è esposto più che mai al giudizio degli altri, cresce un fenomeno particolare, il bullismo da spiaggia. Allora, ne parliamo con la nostra bellissima ospite, Estela Baroni, che è stata a lungo vittima di bullismo. Collegata da Milano c'è Maria Rita Parsi, psicologa e psicoterapeuta. Allora, cominciamo subito dalla sua testimonianza. Estela, quando si avvicinava l'estate, lei cosa provava e a cosa andavano subito i suoi pensieri? Allora, prima di tutto, buongiorno. Buongiorno. Rispondendo alla vostra domanda, i miei primi pensieri andavano nel nascondere le mie gambe e al giudizio degli altri. Io ho sempre pensato di non essere mai all'altezza di nessuno e di non volermi esporre, tanto che la maggior parte dei miei giorni estivi io li trascorrevo a casa, magari insomma a guardare qualche film, qualcosa del genere, col ventilatore, ma mai ho pensato di uscire. Erano rarissime le volte in cui prendevo iniziativa e uscivo con gli amici perché appunto non mi sentivo a mio agio. E quando lo facevo era sempre con i pantaloni lunghi, mezze maniche o le maniche lunghe, proprio per nascondere quello che mi dava più vergogna, che era appunto il mio corpo. Ecco, tutto perché questo corpo non è secondo gli stereotipi che vanno per la maggiore, ma per essere chiari, visto che siamo qui per raccontare e per aiutare anche gli altri. Ma che cosa le dicevano? Ah, lì andiamo a toccare proprio un tasto bello profondo perché erano le solite, grassona, mi hanno chiamato palla da bullying, tante volte sono stati episodi di bullismo molto forti, non soltanto... Ma erano, chiedo scusa, erano compagni di classe, amici, oppure gente che c'era lì nella spiaggia? Compagni di classe, anche, oppure persone che erano in spiaggia, non dicevano, ma basta lo sguardo, perché lo sguardo parla molto, quindi basta guardare e magari capisci esattamente quello che la persona ti vorrebbe dire, ma magari o per l'educazione o perché magari ha un attimo un po' di buonsenso non te lo dice, però capisci molto. E lei come reagiva? Piangevo, molto. Sono arrivata anche molte volte a pensare, appunto, a... Di farla finita? Di farla finita, perché... Stiamo scherzando, davvero? Sì, molte volte. Infatti ho un tatuaggio qua su uno dei miei tanti tentativi, appunto l'amore alla mia arma, perché... Insomma, se si è amore si va un po' ovunque, no? Cioè lei addirittura ha tentato il suicidio per questa cosa? Sì, sì, sì. Perché ci provi, perché non ce la fai più a sopportare le parole degli altri, non ce la... è un carico emotivo molto grosso. Però, visto che è qui e ne parla al passato, abbiamo superato, no? Sì. E come abbiamo superato? L'abbiamo superato, soprattutto, come ho detto, con l'amore, perché io ho una famiglia fantastica, che mi ha sempre aiutato nei momenti bui. Mia mamma e mio papà, che... Infatti non potrei avere genitori migliori. Come si chiamano? Claudio ed Elena. Claudio ed Elena. E poi lo scrivere. Mi ha aiutato molto, perché a me piace molto scrivere, mi piace esprimere quello che sono, mi piace pensare che qualcuno, tramite le mie parole, possa trovare aiuto, almeno un piccolo momento di conforto. E mi ha dato questa possibilità Curvy Pride, che mi ha ascoltato, mi ha accolto nella loro famiglia. E insomma, il mio racconto... Me lo fai vedere, scusami, perché io ti do il tu, sei una ragazza molto giovane. Me lo fai vedere quel tatuaggio? Sì. Lo mostri alla telecamera? Adesso arriva. Adesso arriva. E lì che c'è scritto? Love is my weapon. L'amore è la mia arma. E lì dove ti eri tagliata mi fai vedere? È proprio qua. Ah, ti eri proprio tagliata? Sì. Infatti ci sono i segni sotto, adesso non si vedono più, per fortuna. E c'è il simbolo della pace. Che è un po' una pace interiore anche che hai ritrovato. Sì, sicuramente. Allora, Maria Rita Parsi, che è in sovrappeso, insomma l'abbiamo sentito, può vivere una vita davvero complessa, difficile. Allora, ci sono delle strategie che possono far superare questi momenti? Anzitutto io vorrei dire qualcosa su quello che avete detto. Mi ha molto colpito la parola carico emotivo. Lei ha detto che io non sopportavo il carico emotivo di quello che si determinava. Bene, è proprio vero. Il carico emotivo, perché il corpo parla, è come il carico dei pesi che ti porti. Cioè, nel caso dell'essere molto robusti, diciamo così, il meccanismo è proprio, vi faccio vedere con il corpo che carico emotivo porto. Quindi quello è un fatto di grande importanza, perché torno a dire il corpo parla. E poi anche la bellezza di questa ragazza, veramente molto bella, un viso strepitoso. E il fatto di scrivere. Scrivere era una maniera di scaricare il carico emotivo. Magari parlare di questa cosa qui le avrebbe fatto bene. Mi domando se a scuola, dove c'erano anche i bulli, o nel sociale, dove c'erano le persone, oltre alla famiglia, qualcuno ha permesso a lei di parlare, di dire di questo suo problema. Perché l'autostima che si rintraccia tracciando, perché chi traccia si rintraccia. E quindi si conosce, no? Scrivere è una forma di terapia. Quindi magari parlarne, oppure anche reagire a queste persone. Dire, sai che provo molto dolore per quello che mi dici. Il mio corpo dovrebbe interessare a me, non a te. E se tu, su di me, dici tutta una serie di cose, è perché hai paura. Hai paura dei pesi che porti. Hai paura di non essere accettato. E in me, che vedi una differenza, perché non ho il peso normale che hanno le persone, vedi qualcuno da colpire perché è diverso da te. Il ciccione, il troppo magro, la persona timida, non fanno che esaltare problematiche interne delle persone che lo fanno. Sappiano i bulli che, quando bullizzano le persone, stanno parlando di loro. Sappiano che quello che dicono agli altri e quello che loro hanno dentro. Sappia il bullo che dice ciccione a una persona che è in sovrappeso. Sta parlando dei pesi che ha e che può scaricare sull'altra persona che li rappresenta con il corpo. E dico però a lei, che è una ragazza così bella, così piacevole, così generosa, che sui tagli del dolore mette l'amore, che è proprio l'unica arma vera è l'amore. E l'amore permette anche però di non spaventarsi, di non avere paura di dire ma perché fai così? Non è un modo di amare. Cioè queste persone vanno sbugiardate, affrontate. È chiaro che dirlo a te adesso ha un valore. Dirlo a una ragazzina che non aveva difese, non aveva strumenti in quel momento. Ma infatti, dottoressa, guardi, lo dicevamo prima, Estela è cresciuta molto in questi anni ed è diventata un po' la sua battaglia, quella anche di raccontare ai giovani che possono avere problematiche come le sue, come affrontarle e soprattutto come uscirne. Esattamente. Io credo, scusa se vi interrompo tutti quanti, ma tutte quante, ma non solo ai giovani. Certo, a tutti. A tutti, perché non siamo soltanto noi giovani che soffriamo con il problema degli stereotipi, sono anche le persone adulti. Quanti anni hai adesso? 25. 25, giovanissima. Senti una cosa, ma adesso in spiaggia come ci vai? Costume a due pezzi, pantaloncini tirati su perché insomma il sotto è un po' più difficile da trovare. Sì, costume a due pezzi, mi metto sotto l'ombrellone, mi abbronzo, vado in acqua, mi diverto e le persone mi guardano perché guarderanno sempre. Senti, però tu hai parlato di insulti brutti che ti hanno fatto anche qualche bel complimento. Vogliamo ricordarlo? Sì, beh, io dico sempre che a Mantua ho la mia linea di fans praticamente perché sono tutti molto, insomma, che ci voglio sentire e che continuano a dirmi anche dappertutto, insomma, quanto sono belle e mi appoggiano appunto con questa mia battaglia. Bene, allora grazie per la tua testimonianza che sia di aiuto veramente a tante persone. e un bocca al lupo per la tua carriera da attrice. Grazie a Stella Baroni.